È stato firmato questa mattina in Vaticano un accordo globale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina che fa seguito, si legge nel comunicato congiunto, all'accordo base che era stato firmato tra la Santa Sede e l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina il 15 febbraio 2000 ed è il risultato dei negoziati svolti da una commissione bilaterale nel corso degli ultimi anni. Per la Santa Sede ha firmato l'Arcivesco Pol Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati, e per lo Stato di Palestina il ministro degli affari esteri, Riyad al-Malki. L'accordo, si legge ancora nel comunicato, riguarda aspetti essenziali della vita e dell'attività della Chiesa nello Stato di Palestina, riaffermando nello stesso tempo il sostegno per una soluzione negoziata e pacifica della situazione nella regione. Si tratta di un accordo che stabilisce il riconoscimento giuridico e offre garanzia all'attività della Chiesa Cattolica e delle sue istituzioni e definisce anche lo status e la protezione dei luoghi santi in Palestina. Nel suo saluto l'Arcivescovo Gallagher si è augurato che l'accordo possa in qualche modo costituire uno stimolo per porre fine in modo definitivo all'annoso conflitto israelo-palestinese che continua a provocare sofferenze ad ambedue le parti. Spero anche, ha aggiunto, che l'auspicata soluzione dei due Stati divenga realtà quanto prima. Il processo di pace può progredire solo tramite il negoziato diretto tra le parti con il sostegno della comunità internazionale. In un Medio Oriente dove in alcuni paesi i cristiani hanno sofferto persino la persecuzione, ha detto ancora l'Arcivescovo Gallagher, questo accordo offre un buon esempio di dialogo e di collaborazione e auspico che possa servire da modello per altri paesi arabi e a maggioranza musulmana.